Signora, tutto bene? Come può andare tutto bene? E se sotto queste ceneri giace la mia casa? Mi dispiace molto. Cos'è successo? Un tempo questo era un villaggio tranquillo. Arriva i miei gormiti! Poi sono arrivati i gormiti. Ci hanno portato via tutto. Ma lei è un soldatino. Sta andando a combattere quelle creature, vero? Veramente. Grazie. Grazie ancora. Che il cielo ti benedica. Vincete per noi. E riportate la pace. Dopo tanto viaggiare, arrivai finalmente all'accampamento dei soldatini. E riportate la pace. Un'accampamento dei soldatini. D Identificati. No, tranquilli. Sono venuto qui ad arruolarmi nell'esercito. Abbiamo sempre bisogno di un nuovo reclote. Ti porto dal sergente istruttore. Ma chi è questo? Che strano colore. E dove dovrei metterti a te? Sei una razza strana, non abbiamo unità del tuo colore. Mi mandi dove vuole. Voglio solo difendere il mio paese. Il tuo paese, eh? Chi mi garantisce che in realtà tu non sei una spia dei gormiti? Uno strano come te! Tu hai mai visto un soldatino blu in questo modo? No signore, mai. Ecco appunto, invece ce ne sono tanti di gormiti di questo blu. Signore, non voglio combattere al fianco di qualcuno che mette in dubbio la mia lealtà. Vivevo in un villaggio tranquillo, fino a quando i gormiti non ci hanno portato via tutto. Adesso mia madre sta piangendo sulle ceneri della nostra casa distrutta. Se non mi vuole nel suo esercito, mi dia un fucile e combatterò da solo. Tutti hanno perso qualcosa in questa guerra. Spero che tu dica la verità. Sei dei nostri, ma ti terrò nella mia unità. Voglio tenerti d'occhio. Mi diedero un fucile e dovetti imparare a sparare e a marciare. Provavo sempre a chiedere, posso guidare un'astronave? Ma mi rispondevano sempre, Ancora sei solo una recuta. Torna al tuo posto di guardia. Ehi, non è che posso usare la radio per una telefonata? Non si potrebbe, eh? Quindi vedi di fare svelto. Ragazzi, venite! C'è una chiamata da 22! Ciao, amico! Dove sei finito? Ehi, sto facendo un viaggio pazzesco. Pensa che sono finito nell'esercito. Fico! Riuscirai a tornare a casa? Non lo so, ma ci sto provando. Ci sono i gormiti! Siamo sotto attacco! Cosa? Cosa sta succedendo? Forza, forza, forza! Questa non è un'esercitazione! Siamo sotto attacco! Tutti le trincelle in piedi, pezzi di plastica! Correte, correte! Alt! Non può essere qui. E' un'esercitazione! E' un'esercitazione! Non può essere qui! Non può essere qui! Cosa sta succedendo? E' un'esercitazione! Cosa!